La rilecco La rilecco Lei la mastica e io ciuccio Lei la mastica e io ciuccio E io avanti da zatti eri a letto stamani Io ero a letto stamani come tutti i cristiani Avanti da zatti eri a letto Come sempre, come anche te Anche te Avanti da zatti non tu eri a gabinetto Non tu dormi nella vasca da bagno Che dormi sui cacatoio Non sono mia io Ci dormi nel letto Mi dici chi sei Ce l'ho detto prima Sono Giuseppe Masti a Brodo Tu mi conosci sì Che mi hai riconosciuto No Però ti voglio dire una cosa Davvero Io non mi voglio far riconoscere Perché la moglie se l'ho ciucciata davvero Bravo Tu ridifiora Che se fa tu mi riconosci E tu mi fai tu mi da due volte Capito? Perché io sono l'unico anche se ho una certa età Insomma forse sono più giovane di quanto sembra Capito? Mi porti bene ti vedo Mi vedi? Sì Che c'hai il videotelefono? No ma me ne immagino le cose Allora come li porto? Quanti anni ci avrò? Mi porti bene via Quanti anni ci avrò secondo te? Eeeh Eeeh Termini Aicino Tutti quei sapori forti E me ne sono accorto E io ho detto No 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 Allora basta E ciò voglio dire O o o o o tu ti lavi O oppure un sicuro del Cappuccino tenzinà per favore. Che tu mangi oggi? Poi mi richiami, vai, andiamo in meno furia. Che mangi oggi? Mangio roba buona. Roba buona, che mi mastieresti un po' di roba, fra 10 minuti vengo. Va bene, via. E pago, e poi deco, va bene? Mastiami un pezzo di ciccia buona. Ma non dici che sei? Eh? Dici che sei. No, non ce lo dico, perché se te lo dico tu scopri chi ha trombato la tua moglie, come si fa qui? Ma non ti preoccupaste. Ah, mi preoccupo, sì, non si dice mai che ce lo c'è qui. Comunque, senti, io ti devo dire grazie, anzi, per, insomma, per l'elargizione, capito? Elargizione. Cioè, voglio dire, è sempre roba che tu mai concesso, anche senza saperlo. L'importante è quello, capito? Sì, io ho capito. Allora, se ti ha capito, che dire oh, 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 oh. Ma tu già fai niente? No, io devo fare queste cose, sì, questo lei mi lauro. Hai il tuo lavoro? Lei mi lauro, io lauro, sì, che va a fare? Questo lei mi lauro. Ma hai provato o l'aveva fatta la mano? Eh, mi lauro, eh? Ha provato a fatta la mano da te? Eh, ce l'ho provato, ce l'ho provato tante volte, però purtroppo ti devo dire una cosa. E ti frizza dopo? No, è che sono monco. Ah, c'è monco? È sono monco e c'ho questo problemino, però io c'ho un libro, un manuale, no? È un manuale, guarda, e lo sfoglio con la lingua e dice, è intitolato come farsi le seghe senza mani. Tu sapessi quanti modi ci sarebbero, ci sarebbero tanti modi e io l'ho provato, eh? Se tu vuoi, ti insegna anche a te, perché poi, insomma, non si sa mai, un domani tu potresti essere monco anche te. No, non te l'auguro mica, eh? Però casomai venisse uno, ta, ta, ti tagliasse le mani, no? Tu dovresti arrangiarti da te. Sai come c'è scritto su quel manuale? Oh, parati un po'. C'è scritto come farsi le seghe senza mani, due punti a capo, farsene fare dalla moglie di Osvaldo. E questo è, scusa, che ci posso fare? È proprio così, io ho dovuto dare un manuale, avviso? È proprio una cosa manuale. E chi vuoi sei, per favore? Te lo posso dire, perché appunto dopo tutte queste maialate, ora ti dicono, scusa, sono Giuseppe Mastia Brodo, è il mio nome d'arte, voglio dire, no? Vai, Biascia Brodo, vai, sei te o Biascia Brodo? Biascia Brodo mi piace, è un sinonimo. Biascia Brodo, bravo. È un sinonimo anche questo, Biascia Brodo. È un sinonimo, ma bevi, mi fai finire di mangiare e mi chiacciare la minestra. Sì, ma chiedi anche a la tua moglie, eh? A mio Dio, a mia moglie, va bene. A me, ti chiacciare la minestra? Ciao! Ciao, ci si vede, tu Mastia e io ciuccio, va bene? Va bene. Penso io, ciao! Ciao! Svaldo, ciao, Svaldo, c'è mio in cardo.